L'audioquadro di oggi è anche uno spunto per parlarvi di Karl Bleken, pittore tedesco nato a Cottbus, figlio di Adrian Bleken e Mutter Johann Christian, appassionati di cultura e di arte. Lavorò inizialmente come impiegato di una banca berlinese. Nel 1822 però si iscrisse all'Accademia di Berlino e la sua vita cambiò decisamente. Tutto il suo percorso artistico si svolse tra il romanticismo e il realismo. Decisivo fu il viaggio fatto in Italia negli anni 1828-29. I moltissimi dipinti a olio eseguiti durante quel soggiorno lo caratterizzano come un autentico pittore en plein air. Nel periodo in cui Bleken tornò dall'Italia in Germania il cosiddetto ponte del diavolo sul passo del San Gottardo era in costruzione e lo ritroviamo proprio nel dipinto che vi propongo. La scelta del soggetto corrisponde perfettamente al tema romantico del sublime, all'immagine di una natura selvaggia spaventosamente isolata e distante da ogni civiltà. Il dipinto fu preceduto da studi preparatori di cui uno di essi a matita si limita a delineare la veduta con tratti fugaci mentre gli altri due a olio presentano già la prospettiva definitiva. I lavoratori che compaiono sul limitare del sentiero, la presenza dei materiali da costruzione e l'armatura del nuovo ponte, più alto e imponente del primo, sembrano celebrare la marcia ufficiale della tecnica anche nei luoghi più impervi. Ma l'osservatore dubita del fatto che il quadro esprime ottimismo per il progresso. Il ponte appare troppo esposto al sovrastante paesaggio alpino, troppo fragile per contrastare le forze della natura. Il quadro di Blacken ci parla quindi della grandezza maestosa e senza tempo della natura e del progresso dell'ingegneria. Allo stesso tempo il paesaggio, soggetto tipicamente romantico, viene reso autonomo da qualsiasi altro tema. Negli anni successivi al viaggio in Italia la componente romantica in Carl Blacken acquisì un ruolo sempre maggiore. Le atmosfere dei paesaggi si fecero più cupe mentre la figura umana divenne spettatrice o vittima di eventi catastrofici. Se il video ti è piaciuto metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!